Io ringrazio Paolo e Maria e anche Maglio per avermi invitato qua. Il brano che ho scelto da questo libro che è un inno alla donna e quindi anche un inno all'amore verso la donna e il titolo del primo brano che leggerò è Riflesso nei tuoi occhi. Riflesso nei tuoi occhi sono bello anch'io, dimentico per un attimo il mio oblio. Consumato dall'affanno riprendo fiato, quando ammiro il tuo corpo svestito, scavato dal desiderio, non sono più io, vorrei essere la foglia della tua bocca, vorrei che questa quiete nitida restasse in eterno, come un'istantanea d'autunni. Non sono più disabitati i miei sguardi, sono meno profonde le mie oscurità attraverso i tuoi occhi. I nostri desideri, come le nostre paure, hanno lati che compagiano. Voglio ricamarti sulla pelle una preghiera di quello che sento, come un monaco che medita a bassa voce il suo canto sacrilego nella buia cella del convento. Tutto è più seducente attraverso i tuoi occhi, e i labirinti vi vengono rettilinei. La luna si sfoglia, i mille aromi della tua saliva mi smorzano la vita.